Benvenuti a Occhio ai giornali, il commento ai giornali, ai titoli delle notizie più importanti di oggi all'interno della rassegna stampa di Fanotv sul canale 17. Buongiorno e benvenuti cari telespettatori, oggi come sempre, come vi abbiamo ricordato anche ieri sera, sarà una rassegna stampa prolungata, extra large, comunque perché? Perché dopo le 8.30 ci ritroveremo in diretta per proseguire il discorso del Covid-19 nella nostra regione, quindi avremo anche oggi ospiti e un po' di collegamenti. Allora, andiamo con ordine, partiamo dal santo del giorno e poi andiamo a vedere il tempo. Il santo di oggi è Santa Matilde di Ackerborn e il sole sorgerà alle 7.12 e tramonterà alle 16.40. Il cielo oggi, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, sarà sereno, poco nuvoloso, temperature in diminuzione quelle della notte, in aumento invece le temperature massime per domani, torna la pioggia, ma attenzione perché torna anche, vedete, il simbolo della neve, neve mista a pioggia, siamo nell'Appennino ovviamente, le nostre montagne splendide, il limite delle nevicate domani inizialmente poco sopra, al di sopra dei 2.000 metri, ma scenderà fino a portarsi intorno ai 1.000 metri in serata. Temperature in aumento le minime, in diminuzione invece le massime. Sabato 21 novembre, allora ancora cielo sereno o parzialmente nuvoloso, forse qualche pioggia residua nella prima parte di sabato mattina, però soprattutto limitatamente al settore meridionale della regione. Poi tempo stabile nella giornata di domenica e anche all'inizio della prossima settimana. Allora andiamo subito adesso a vedere i giornali, il resto del calino di Pesaro apre con la morte di un giornalista, un giornalista tra i più importanti, stavo parlando di Nestore Morosini, un grande giornalista che sì, viveva a Milano ormai, ma le sue radici fanesi. Erano ben radicate, allora spesso era in contatto, anche io l'ho sentito l'ultima volta a marzo per chiedergli se potevo pubblicare un suo ricordo, un ricordo che aveva scritto su Carlo Amodio e lui mi rispose di sì, che era contento e quindi ecco ci siamo sentiti l'ultima volta appunto a marzo. Provincia, provincia inagibile va evacuata, invece questa è una doccia fredda, non lo so. Comunque sia, dalle verifiche emergono problemi di staticità al palazzo dove sono ospitati gli uffici della provincia. I dipendenti dovranno traslocare e il Carlino spiega in qualche modo dove. Poi Fiocco Rosa, in comune, è nata la figlia di sindaco e assessora, siamo a Mondolfo e sull'auto, sugli assembramenti, c'è oggi la notizia che praticamente l'ordinanza che è stata rinviata ad oggi, un'ordinanza che doveva essere firmata qualche giorno fa, invece ha avuto qualche rallentamento, un'ordinanza che Acquaroli firmerà probabilmente nella giornata di oggi. Frenano intanto i contagi, resta però l'allarme, 11 le vittime, c'è anche un 33enne con patologie pregresse, poi ad Acqualagna il Covid è alle spalle, i cinesi dunque fanno acquisti e divorano tartufi. Tutto il fresco viene esportato praticamente in Asia grazie al fatto che lì non ci sono problemi. Caini intanto è negativo, la VL quindi può tornare a giocare, restano 4 giocatori in quarantena, crescono le chance di giocare contro Reggio. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico, Ricci, prova di forza per l'ospedale di Muraglia. Dopo il no al project financing il sindaco fa il capopopolo e lancia un sit-in. Nella giornata di sabato la regione si arrende, riconvertito il nosocomio di Camerino, le Marche rischiano di cambiare colore. Intanto il bocciodrovo è al traguardo, le restrizioni non fermano i cantieri. Poi sotto le ruspe demoliscono l'ex consorzio agrario per le future due torri, siamo sempre a Pesero. Parco delle sculture, la città che verrà a Echi del passato e poi a Mondolfo. Giulia, primo vagito, gioia del sindaco e dell'ex assessore. Morosini muore per Covid con Fano, legame mai rotto. Nestore, noto ex inviato del Corriere della Sera, infettato un mese fa, decesso al sacco di Milano. E allora, prima di andare e di immergerci nella realtà che ahimè ci circonda, ovvero il Covid-19, un po' di leggerezza, anzi un po' di emozione se vogliamo, con le due pagine che si occupano della nascita di Giulia. Giulia è la piccola venuta al mondo nella giornata di ieri ed è la figlia del sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, e dell'ex assessore, ormai perché ha dato le dimissioni, ha lasciato le deleghe da assessore ad una collega per continuare a ricoprire solo il ruolo di consigliere comunale nel comune di Mondolfo. Adesso vivrà un periodo di maternità, poi tornerà al suo lavoro di architetto. La vedete in questa fotografia, Lucia Catalani, Nicola Barbieri e la gracile mano della neonata, che vi abbiamo mostrato anche noi ieri nel telegiornale. La bimba è venuta alla luce nell'anniversario dell'impresa delle donne marottesi del 1917, scrive il Corriere. Questa invece è la foto grande pubblicata sul resto del carino di Pesaro. Fiocco rosa in municipio, arrivata Giulia. Il titolo, la figlia del sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, dell'ex assessore Lucia Catalani, è nata mercoledì notte all'ospedale Santa Croce. Le visite non sono consentite, quindi dice il sindaco, ho dovuto fare le videochiamate per tutti i nonni e gli zii. Il primo cittadino dice ho potuto assistere al parto, prima però ho dovuto fare il tampone. E dicevamo, ricordavamo, è nata nella giornata in cui Marotta ricorda le 11 ragazze che il 18 novembre del 1917 salvarono dalla furia del mare 104 uomini del pontone armato Fadi Bruno, incagliatosi al largo della costa marottese mentre si trasferiva da Venezia ad Ancona dopo la disfatta di Caporetto. E ieri è stata comunque ricordata. La cronaca invece è un tir a fuoco in autostrada, fiamme sviluppate nelle ruote di un rimorchio. La 14 è stata chiusa intorno alle 16 e 30 all'altezza di Marotta e poi riaperta. E adesso andiamo a vedere le notizie che riguardano la pandemia e in particolare la nostra regione, anche se cominciamo da una pagina del resto del carino nazionale. Il titolo, rallenta il contagio, il CTS, che è il Comitato Tecnico Scientifico, guarda avanti. Dopo il 4 dicembre, bar e ristoranti aperti. Miozzo dice, minori restrizioni anche per i negozi, ma scordiamoci il Natale tradizionale, verso un calo delle limitazioni in alcune province. Ora, scordiamoci il Natale tradizionale, bisognerà capire che cosa intendono e che cos'è per loro tradizione, perché magari per me il Natale può essere farlo in un modo e per loro in un altro. Quindi capiremo poi in che modo ci imporranno e ci diranno di fare e di passare questo Natale. Ospedali sotto stress frenano però i ricoveri nelle rianimazioni, così come gli accessi di nuovi pazienti nei reparti infettivi. Intanto i pazienti Covid, scrive il Corriere Adriatico, anche a Camerino per scacciare l'incubo zona rossa. La regione si arrende, al Santa Maria erano rimasti 30 posti occupati e 70 liberi, mentre Macerata sfiorava il collasso. Voi sapete che al sud delle Marche la situazione è quella che preoccupa di più. Anche i nostri ospedali, quelli di Pesero più che altro, ospitano persone che arrivano dal sud della regione, dove la situazione è un po' complicata, è un po' più complicata. E quindi il rischio di poter diventare zona rossa, che è sempre dietro l'angolo, per la regione Marche c'è e dipende molto anche da questa situazione che si sta vivendo nella parte meridionale delle Marche. Il rapporto tra positivi e tamponi continua nel suo rallentamento però per gli esperti siamo vicini al tetto, da oltre il 30% siamo scesi al 26%. Sono stabili dunque le terapie intensive e anche le sub-intensive. Quindi ieri ci sono stati 11 decessi, negli ultimi sette giorni sono state 67 le vittime. Però se vogliamo ancora mettere il coltello nella piaga possiamo anche ricordare quelle dall'inizio, che sono più di mille, che fa ancora più effetto. Certo, i numeri sono i numeri e la situazione chiaramente è quella che è. Però, insomma, virus ancora aggressivo a macerata dove è alto il livello degli infettati. La grande corsa al tampone che inquina i dati dei positivi, e qui ne abbiamo parlato anche in diretta l'altra mattina con il Governatore, chi fa i test antigenici privatamente dribbla di fatto il percorso dell'Asur e alimenta il sistema parallelo che preoccupa i sindaci. La protesta, i dati sono in ritardo, sono incongruenti, gli esperti dicono monitoraggio più difficile se una parte va per conto suo. Ma è anche vero che non si può aspettare troppo tempo, come spesso accade, e quindi poi uno fa da solo. Perché ho torto collo e questo è quello che si può fare. Uno non è che può aspettare troppo tempo, insomma, settimane. Ecco, quindi uno giustamente poi va privatamente. E poi se dopo privatamente non comunicano tra di loro o non comunicano poi i dati, questo non è un problema di chi va a farsi il tampone privatamente. L'immunità al Covid invece può durare degli anni. Questa è una notizia che arriva dal Professor Sette, che ha guidato lo studio a San Diego, e dice che può durare l'immunità. Quindi chi ha preso il virus, chi ha contratto il virus, potrebbe essere protetto, potrebbe, sempre con il condizionale, per molti mesi, probabilmente addirittura per anni. Lo dice Alessandro Sette, che è italiano trapiantato negli Stati Uniti dall'85 ed è uno dei massimi esperti di virus e dintorni. Dirige il Dipartimento di Ricerca sui vaccini e dice che gli anticorpi calano. Sì, è vero, ma le cellule scudo difendono l'organismo se torna il virus. Quindi in qualche modo comunque la difesa, dal momento in cui io non l'ho contratto per la prima volta, rimane. I tamponi rapidi dal medico di base, screzzi tra i sindacati, poi la pezza. Atteso per oggi l'accordo tra la Regione Marche e le parti sociali, queste hanno chiesto l'adesione volontaria di utilizzare DrivePoint e avere i necessari kit, ma un summit segreto, un incontro segreto ha rischiato di mandare tutto all'aria. Questa nuova ordinanza, i sindaci chiedono modifiche, la Regione rinvia ad oggi la stretta sugli assembramenti, ma il Governatore dice massima condivisione partire dai prefetti e dai comuni. Abbiamo visto più o meno le ipotesi, cosa potrebbe contenere di più rispetto al DPCM a cui noi siamo oggi sottoposti soggetti. Che cosa prevederebbe? Per esempio l'invito, la raccomandazione forte di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, a meno che non ci siano motivi di lavoro, salute e situazioni di necessità. Ovviamente sono sconsigliate le feste private nelle abitazioni. Ora, cosa succede se uno dovesse fare una festa privata, eccetera? Il vicino chiaramente segnala la polizia, la polizia arriva e manda tutti a casa. No, lezioni di canto a strumenti e fiato, questa è un'altra limitazione che probabilmente è inserita nell'ordinanza e poi la spesa si fa soltanto con uno per famiglia, al supermercato ci va uno per famiglia, l'accesso nei negozi che vendono alimentari è consentito ad una sola persona per famiglia, a meno che non ci siano minori di 14 anni oppure dei disabili. Nei negozi di media e di grande dimensione l'ingresso è riservato a over 65 nelle prime due ore. Perché questo? Perché l'aria è più pulita, perché tendenzialmente si aprono, si fa rieggiare, il virus va a finire a terra, insomma c'è la pulizia della sera prima e quindi il locale più pulito, più sano, più salubre nelle prime due ore. Poi chiaramente nel corso, più si va avanti nel corso della giornata, più l'ambiente diventa, potrebbe essere, diventare infetto. Ecco perché è importante anche tenere le finestre aperte, a rieggiare sempre e possibilmente, quando è possibile, insomma pulire le superfici. Allora, caccia di strutture per pazienti Covid e dopo Macerata Feltre in lista c'è Cagli, siamo sempre sul Corriere, se i posti non saranno sufficienti, ulteriori 30 potranno essere ricavati da un altro polo riabilitativo e questo ci consente appunto di avere posti disponibili e quindi di scongiurare il passaggio a zona rossa. Intanto sul Carlino, così come sul Corriere, la notizia della morte per Covid di Nestore Morosini, giornalista che amava questa terra, per 40 anni ha raccontato il calcio e la Formula 1 sul Corriere della Sera, mamma pesarese insegnante e al conservatorio e padre fanese. Il contagio è avvenuto a Milano per accompagnare in auto un suo amico parroco. È morto l'altra notte a Milano, Nestore Morosini aveva 83 anni, per oltre 40 anni ha fatto l'inviato del Corriere della Sera e diceva lui io sono nato a Pesaro e se non ci credi ti faccio vedere la carta d'identità, era vero, ma era fanese doc. Due figlie, Francesca, giornalista e Valeria Morosini, attrice. e appunto qui Maurizio Gennari racconta un po' le cose principali, ma ha una vita quella di Nestore Morosini, potete immaginare, inviato giornalista di un importante quotidiano nazionale, potete immaginare quante ne ha viste, quante ne ha raccontate, quante ne ha dette e quante ne ha scritte, insomma. E insomma, un bel ricordo che troverete sul giornale, lo ricorda anche il sindaco di Fano Massimo Seri, chiaramente partì con un sogno e tre chili di vongolo, invece Fanora piange il suo cronista più noto, Nestore Morosini stroncato dal virus, firma del Corriere della Sera, sempre legato alla sua città. Aveva 83 anni, iniziò però al Corriere Adriatico, all'epoca si chiamava Voce Adriatica, il Corriere si chiamava così, mentre parla di lui Seri dicendo che era un fanese verace e strionico, ma sempre raffinato nei modi e fiero delle sue origini. Tant'è che faceva parte anche di un gruppo, un gruppo che c'è su Facebook, la vecchia Fano, e spesso commentava, postava, insomma c'era un legame strettissimo con la città di Fano, praticamente era come se fosse qui, di fatto, ecco, anche se stava a Milano, ma era come se fosse e scrivesse da Fano. Guarito dal Covid, invece, aspetta un mese per le analisi, per la verifica dei valori del sangue, disponibilità non prima di dicembre. Lui è Giovanni Fontana, ex consigliere comunale, ne parla anche il resto del Carlino. Io salvato dal plasma, ma ora l'odissea esami. Fontana ha sconfitto il Covid grazie alle trasfusioni, con il sangue dei guariti, però per le analisi devo aspettare un mese. L'invito invece dell'assessore Lucarelli, l'assessore di Fano, quello a Natale è di aiutare i negozi della nostra città. Presenta un'app che indica bar e ristoranti che fanno l'asporto. Ora questo, e a questo punto vado a finire in fondo alla timeline che avevo programmato, perché si potrebbe benissimo abbinare invece a quest'altra notizia che sta facendo il giro del mondo e che è partita dalla Francia, a proposito degli acquisti di Natale. Gli intellettuali francesi, andiamo sul Carlino, contro Amazon. Per Natale scegliamo i piccoli negozi. Una raccolta di firme, in prima fila la sindaca socialista di Parigi, Anne, e in Italia la stessa campagna invece è promossa dal centro-destra. Ieri Matteo Salvini ha parlato, ha scritto un post, Natale senza Amazon, famorendo gli acquisti dei negozi, che cosa ne pensate? L'ho attuitato sostenendo dunque in qualche modo la petizione francese. Interessante dunque capire che cosa ne pensano gli italiani di questa iniziativa, di questa proposta? A me non dispiace, per esempio, a mio parere personale. Allora, andiamo, torniamo sulla rassegna stampa. Ecco i pazienti Covid, sacrificate cure intermedie e riabilitazione. Siamo a Fossombrone. Nonostante gli appelli, si ripete a Fossombrone il copione della prima ondata pandemica. Comunicata al Sindaco la decisione dell'Area Vasta 1, solidarietà al personale per la prova. Mentre qui siamo sulla pagina di Acqualagna, del Carlino, altro che Covid, i cinesi divorano i tartufi. Davide Possanzini, di Acqualagna e Tartufi, dice tutto il fresco va praticamente in Asia, dove non ci sono problemi. Pensate, dove tutto è nato, oggi non ci sono problemi. Noi siamo alle prese con la seconda ondata della pandemia, non sappiamo dove sbattere la testa. Là, dove tutto è nato, invece tranquilli, come una Pasqua. E va bene, questa è un po' la realtà. Evidentemente qualcosa... Perché là è così e qua è cosà? Perché là hanno fatto tamponi a raffica, ma ne hanno processati milioni al giorno. Noi invece qua andiamo in tilt per qualche tracciamento in più. Evidentemente è un modo di agire diverso e che ha prodotto effetti chiaramente diversi, che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi in Cina è così e noi siamo qua. Allora, andiamo avanti. Cambiamo argomento. Sit-in per difendere il nuovo ospedale. Intanto i milioni rischiano di prendere il volo. Stiamo parlando del nuovo ospedale di Muraglia, dove il sindaco di Pesero Matteo Ricci ha organizzato per sabato un sit-in, sabato alle 3 del pomeriggio. Ricci ha lanciato la mobilitazione a Muraglia. Salta Martini ha raccolto l'assist di Marta Ruggeri dei Cinque Stelle. I 105 milioni non sono vincolati a Pesero. Biancani dice ma questo è uno scippo. Insomma, sulla battaglia, sulla questione dell'ospedale ci sarà da ridere. Da Cerra invece a Fano il viaggio della cocaina. La cronaca, nove arresti nel Napoletano. Veniva smerciato fino ad un chilo di polvere bianca alla volta. Cessioni avvenute anche all'ospedale. Intanto i ladri al bar, noi indifesi su tutto, state attenti, questo è l'appello con il coprifuoco, i delinquenti hanno tutto il tempo di agire indisturbati. Anche questo è vero. Continua la razzia notturna nelle attività commerciali del centro storico di Fano dopo la denuncia di Confcommercio che alcune settimane fa aveva richiamato l'attenzione sul rischio criminalità che lo spopolamento del centro storico avrebbe potuto comportare. Infatti questo è avvenuto. Dopo le 10, essendoci il coprifuoco, quindi praticamente nessuno che gira per la città, gli unici che girano a quanto pare sono i ladri. Sberciano due chili di cocaina, preso il capo, trovato il capitale, blizze dei carabinieri, fiamme gialle nel napoletano, un arresto, sigilli a beni per 150 mila euro. 14 le persone indagate. Mentre, guardate questa fotografia, è un blindato per gli 007 della Marina di Dubai. È stato realizzato nei cantieri della Pershing, il 33 metri con motori a turbina e parti in titanio che pattuglierà le acque del Golfo Persico. Sembrava la scena di un film di James Bond, questi così dicono i curiosi, tante persone erano presenti al varo di questo blindato. Infatti si vede, insomma, un blindato per operazioni che immaginiamo saranno operazioni anche delicate sul mare. Vetrina online contro il lockdown. Anche il Corriere Adriatico. Ecco chi offre asporto e consegne. Dove mangiare sul portale Visit Fano del Comune. Si trovano bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie. Una pronta risposta agli operatori. Il Lucarelli dice questo Natale viviamo, vivremo il senso della comunità. Speriamo. Beato, scusate, beato. Boato, a proposito di comunità. Boato e fuga con 7 mila euro. Bancomat sventrato di notte. È successo a Montelabate. Guardate che cosa hanno combinato. La sede del Montelabattese e della Banca di Pesero, devastata dal gas, distrutte pure le telecamere. Tutto è successo intorno alle 3 di notte. Aiuti alle attività del Centro Storico di Urbino. Invece rientra la città tra le 29 località italiane che hanno il diritto ad un sostegno a seguito del Covid-19. C'è stato un calo di fatturato chiaramente anche a Urbino. Per rientrare occorre dimostrare di aver subito minori incassi superiore ai due terzi. Questo per avere i soldi che sono questi contributi che dà lo Stato alle città che hanno avuto problemi. Intanto al cimitero si stumulano le salme. Pochi giorni per gli spostamenti. L'accesso all'area interessata sarà interdetto. L'intervento è necessario per le condizioni della zona interessata. Nel caso in cui non si presentino i parenti i resti finiranno nell'ossario comune. Bonus per i negozi. Il Centro Respira, sempre a Urbino, la città ducale unica marchigiana tra le 29 mete turistiche italiane a rientrare nel fondo del decreto agosto. L'importo fino a 150 mila euro ad attività sarà esentasse. La domanda si potrà inoltrare da oggi fino al 14 di gennaio. Però, insomma, 150 mila euro, insomma, non sono bruscolini. Schiuma nelle cascate invece di Fermignano. Nella mattinata di martedì un pescatore ha fotografato la presenza di grossi ammassi di schiuma nelle cascate di Fermignano. A Pesaro si abbatte l'ex consorzio agrario e a suo posto le due torri del porto. Curiosità ieri mattina all'avvio della demolizione di uno dei maggiori simboli del degrado cittadino. Non paga le tasse per 500 mila euro. Confiscati conti, casa e due auto. Operazione della finanza nel mirino un costruttore di origini romene titolare di una ditta con sede a Gabice. Poi a Pesaro, in via Paterni, una donna è stata trovata morta, aveva 49 anni. Una vicina ha dato l'allarme, visto che non la vedeva più. A Senigallia, macchine e parchi, ride dei vandali, gomme tagliate e specchietti rotti sulle auto, bivacco e degrado nei giardini, caccia al ladro del Conad. Il sospetto è stato identificato grazie agli identikit ed è fuggito su un treno. E poi, sempre dai quotidiani, siamo alla fine, siamo al termine della nostra segna stampa, lo sport di Donato, l'allenatore della Visa al lavoro, non può sbagliare. Il tecnico sta preparando la delicatissima partita con il Carpi, tante assenze importanti, ma stavolta bisogna tirare fuori i cosiddetti attributi. Poi Fano Arezzo si gioca, è una buona notizia, la squadra di Camplone sembra essere uscita dall'emergenza Covid, il difensore Granata Carniellutti dice finalmente si torna in campo e poi sul parchè della Vuel, la Vuel avanti tutta, ok al match contro il Reggio. allenamenti individuali anche per Caino dopo i tamponi, risultati positivi. Gli unici in quarantena tra gli emigliani sono la D della Salda e il direttore generale Barozzi. E con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa, ma ci vedremo tra pochissimo, restate con noi, alle 7.30 la messa, in diretta da Loreto, poi la replica di questa rassegna stampa, alle 8.30 torneremo in diretta con ospiti, collegamenti, e torneremo a farci compagnia, a parlare di questa seconda ondata di pandemia nelle Marche. A più tardi.